A Montonio sorgerà un centro radiologico all'interno del distretto sanitario di base, oggi una firma importante, quindi c'è un comodato d'uso gratuito, il passaggio dell'immobile dal comune da Asla. Sì certo, quello trattasi di una struttura comunale che con la firma del comodato che abbiamo sottoscritto oggi entrerà nella nostra disponibilità e in questo modo andremo a realizzare dei lavori per mettere dentro un centro radiologico di primo livello, un centro voluto fortemente sia dall'Asma ma soprattutto dal sindaco che ha in una prima fase reperito i soldi da parte dell'agenzia di cosiddetta territoriale e poi direttamente tramite fondi che dal medesimo trovati e quindi messi a nostra disposizione per poter dar corso a questa importantissima struttura. È una struttura, è forse il primo centro del genere che viene realizzato in una struttura non ospedaliera e andremo ad installare in questa struttura un telecomandato tradizionale radiologico, un ecografo multifunzione, un mammografo e un dentascall, quindi tutte attrezzature per una radiologia di primo livello. L'importanza è dovuto sia al fatto che questa struttura darà un supporto anche all'attività ospedaliera per alleggerire tutte le richieste che vengono dalle zone montane dell'Atà del Gran Sasso e della Laga che abbraccia un bacino di circa 30.000 persone e poi per dare un supporto anche per i tempi di attesa e soprattutto per dare una sanità di prossimità ai cittadini. Una sanità quindi sempre più territoriale, sempre più vicina al territorio. L'obiettivo principale della nostra attività nei prossimi anni sarà quello di potenziare sempre più il territorio perché il territorio è fondamentale per dare, come possiamo dire, per evitare l'ospitalizzazione, evitare che persone debbano andare per l'attività, debbano anche per l'attività in ospedale e recarsi in ospedale, quindi eliminare i disagi alle persone e soprattutto dare una sanità sempre più vicina alla loro abitazione. Questo nell'ottica anche, perché si ha accennato anche della problematica, una delle principali in questo momento si vive, che vivono le ASL, non solo le ASL di Terno che sono le liste d'attesa. Quello è un problema, lo stiamo affrontando, cerchiamo di risolverlo e questo è quello che noi mettiamo in atto, ne ho parlato tante volte. Sono intervenuto ultimamente per ripadire in via definitiva che noi l'abbiamo fatto questo intervento chiarificatorio sia per salvaguardare dell'interesse dei cittadini e soprattutto per difendere l'operato dei sanitari che si stanno prodigando al massimo per addivenire alle richieste che vengono dalla popolazione.